Buonasera dottore, senta, mi scusi, siccome mio marito ha problemi di... insomma, non va di corpo, cosa possiamo dargli? Ecco, ecco, bravo, bravissimo. Mi scusi, ma non ce l'ha più grande? Ma allora qui avete pure farmaci. Certo, ma solo farmaci senza obbligo di prescrizione medica, SOP e OTC, quindi farmaci da banco. Mi faccio un girino e poi torno. Vi aspettiamo a Carini, in via Torretta 14, con ampio posteggio privato e in via Piemonte 33, sempre a Carini.